Perché non credi in Dio? Sheldon? Perché la scienza spiega l'universo senza inventare un essere soprannaturale. Ma come fai a sapere che non esiste? Vuoi smetterla? L'oneri della prova non spetta a me. Se dicessi che qui c'è una scimmia invisibile, non dovresti credermi solo perché non puoi provare che mi sbaglio. Perché la scimmia invisibile? Non lo so. È una scimmia fantasma? Certo. Perché non è in paradiso? Perché il paradiso non esiste. Intendo quello delle scimmie. Non esiste il paradiso delle scimmie né quello normale. Moriamo e smettiamo di esistere. Basta. Spera di aver ragione. Perché se finisco nel paradiso normale e tu all'inferno, mi farò tante risate. Ma se vai nel paradiso delle scimmie, riderò ancora più forte. Pensa alle tue unghie. Dio, quando Sheldon morirà, mandalo nel paradiso delle scimmie. Amen.